Intanto prova l'impostazione, provo Statuto con la macchia, attenzione a Rastelli, aria di rigore, Rastelli destro, mette in mezzo, Statuto, Statuto, ancora calcio di rigore. Calcio di rigore immediatamente fischiato da De Santis, vedo che il fallo ci stia tutto, vedete che i bolognesi non protestano per niente, molto bravo Rastelli verso Statuto, è stato Maini a toccare Statuto proprio al momento del tiro. Fischi a De Santis, parte Inzaghi, rete, 1-0, Piacenza in vantaggio, sblocca Simone Inzaghi. Arriva Manichetti, attenzione, limite dell'area, mette in mezzo ma non c'è nessuno della Piacenza, controlla Bettarini, dall'indietro, attenzione, passaggio sbagliato, calcio di rigore. Ancora un calcio di rigore, l'errore clamoroso di Bettarini, Rastelli è andato sul pallone, aveva intuito tutto, Antonioli ha commesso pallo, rivediamo, guardate Bettarini disimpegnere indietro, male, c'è Rastelli che arriva per primo sul pallone e il calcio di rigore ci sta tutto. Pronto Simone Inzaghi, fischi ancora De Santis, parte Inzaghi, parata, la palla è ancora buona, salta sulla traversa e stavolta Simone Inzaghi pareggia con questo errore il gol segnato. Il lancio per Inzaghi, per il sole bravo, Inzaghi era di rigore, ancora giù, è ancora calcio di rigore, ancora calcio di rigore, è il terzo, incredibile, guardate Inzaghi e Antonioli che vanno a far lottare, è incredibile, terzo calcio di rigore, fischi a De Santis per la terza volta, parte Inzaghi, rete! 2-0 e Inzaghi è ritirato nello stesso angolo del primo rigore. Fa vedere Mazzoli in avanti, ha avanzato anche De Licarri, potrebbe battere sul secondo palo, stroppa, palla in mezzo, Rastelli in volta! 3-0, Rastelli! Si incrocia, Rastelli e Simone Inzaghi, il pallone per Simone Inzaghi, posizione regolare per lui, area di rigore, va in mezzo, metti in mezzo, palla carambola davanti da Antonioli, credo sul corpo, e c'è calcio di rigore? C'è calcio di rigore ancora? Vediamo, è forse ragione De Santis? Eh sì, c'è proprio un fallo di mano, parte Piovani, rete! 4-0! Adesso Inzaghi, ancora Inzaghi, rete! Simone Inzaghi, 5-0!